Vasaki che noi ovviamente si festeggia ad aprile come ormai abitudine nel comune di Tranova Bracciolini e infatti siamo molto contenti che il comune ci dia questa possibilità di farci conoscere meglio tramite fotografie, i nostri colori, la nostra cultura alla popolazione di Tranova ma tutto il Val d'Arno ormai. Ecco, cosa vedremo nella mostra? Nella mostra ci sono le fotografie scattate dai fotografi che erano presenti, amatoriali e comunque tanti altri che hanno fatto le foto alle danze, alla sfilata intera e sono presenti insomma le foto scattate durante la festa. Sindaco, perché questa scelta di ospitare questa mostra? Allora, innanzitutto io voglio primettere che la comunità indiana si è pienamente e compiutamente... Ah, come? Scusa, non c'è più il mio... Mi dici intanto quando è?